Buongiorno a tutti. A nome del comitato organizzatore di Festival Letteratura ringraziamo Gruppo TEA per aver contribuito alla realizzazione di questo evento e diamo il benvenuto a Alessandro Catalano e Luca Scarlini. Presenta Giovanni Zucca. Grazie mille. Accenti. Persone, parole, idee, celebrità e sconosciuti. Libri perduti e ritrovati. Per 30 minuti contati. Buongiorno, buongiorno, benvenuti. Sono lietissimo di ritrovare Mantova e il suo festival, questo pubblico folto che già, poi so che si infoltirà ancora di più nei prossimi giorni. Do subito la parola ai due autori che hanno l'incarico, l'onere e l'onore di aprire Mantova e di aprire la rassegna Accenti, che sono Alessandro Catalano, docente di letteratura cieca all'Università di Padova, traduttore e studioso della letteratura praghese cieca, non cicoslovacca in generale. Luca Scarlini, autore, performer, entertainer e tutta una serie di altre cose che tralasceremo, perché chi non lo conosce vuol dire che è la prima volta che viene a Mantova, ma avrà modo di scoprirlo. Ci introducono al tema della città abbinata quest'anno al festival letteratura che è Praga, la Praga magica, la Praga della letteratura, una Praga tutta di libri da scoprire. 30 minuti per loro. Prego. Saremo veloci. Velocissimi. Allora, Praga in brividi parola e musica, come da questo libro azzurro che potete prendere nella postazione che sta davanti allo spazio libreria, è un lavoro in cui si parla di una delle capitali letterarie d'Europa, Praga scritta da autori ciechi, da autori in lingua tedesca, da autori di altri paesi del mondo, con una serie di eventi che hanno a che vedere con alcuni aspetti di questa città, che ha un'illustre tradizione letteraria dal Medioevo, e che appunto, come è stato ricordato prima, per gli italiani rimane Praga magica, secondo il titolo del celeberrimo libro di Angelo Maria Ripellino, che non poco ha stabilito un determinato mito legato al surrealismo, alla magia Rodolfo II, all'alchimista, al cimboldo e tutto il resto. Ci sarà, e questo poi varrà la pena che aggiunga altre due parole, una serata assai peculiare al cimitero monumentale di Mantova, dalle 19 a 30 fino alla notte più fonda, dove tutta una serie di voci gotiche di Praga verranno evocate dalle tombe, che mi sembra un luogo adeguato, dato che il cimitero ebraico di Praga è il simbolo principale di quella città, è il luogo turisticamente più visitato e quello anche che più ha suscitato magia dell'immaginazione, per via del golem, il famoso salvatore degli ebrei, il mostro o la creatura salvifica, secondo il punto di vista, che viene creato dall'argilla e con la letterina in fronte viene portato alla vita e poi riportato alla morte, in ogni caso. Prima di riprendere la parola e di concludere poi con un famoso scrittore cieco che è stato da queste parti, ma non si è trovato bene, perché va detto che insomma ci sono cose che talvolta funzionano meglio dopo morti che in vita, e passerò la parola a Alessandro Catalano, che è docente di boemistica, traduttore di autori ciechi, a cui chiedo anche di raccontare i due autori contemporanei che vengono da Praga, che saranno ospiti del festival. Riprendo poi la parola io per concludere, per dire ulteriori cose sugli altri eventi. Prego. Allora grazie. Grazie intanto di aver pensato questo progetto. Io devo dire la prima volta che ho sentito parlare di quest'idea, creiamo adesso una città in libri su Praga, devo aver fatto una faccia un po' perplessa. Alla fine abbiamo creato questa bibliografia che vedete qui, sono 311 volumi, volumi li abbiamo molto selezionati eliminando molto e l'idea che mi è sembrata veramente curiosa è come si crea una biblioteca di una città, cioè come mettiamo insieme tutti questi libri. Di Praga come sapete ormai è lo stereotipo Praga magica, ne abbiamo sentito parlare tante volte, per fortuna ora già sta anche un po' decadendo questo schema, ma questa bibliografia va molto oltre. È una bibliografia che parte dai luoghi di Praga, io credo che la maggior parte di voi avrà letto, se non tempi recenti, quando c'è stato quel grande boom di Milan Kundera, l'insostenibile leggerezza dell'essere. I carri armati che nel 68 arrivano a Praga e occupano un po' tutta Praga, credo che nell'immaginario siano una delle istantanee che quando uno pensa a Praga insieme al Ponte Carlo vengono subito in mente. Quindi noi siamo partiti dai libri più noti che chiunque conosce, Ripellino, Praga magica, ma anche Neruda, i racconti di Malastrana, Neruda non il Neruda che conosciamo tutti, Pablo il poeta, che aveva scelto questo pseudonimo perché gli piaceva lo stile particolare di questo caricaturista cieco dell'Ottocento e ha scritto questi bellissimi racconti su Malastrana che poi è il quartiere degli italiani sostanzialmente a Praga. Passeggiando per Malastrana vi capiterà non soltanto di trovare l'ambasciata italiana, ma di trovare tracce di italianità un po' in ogni strada. L'insostenibile leggerezza dell'essere di Milan Kundera, se vi ricordate, partiva proprio da questa amore struggente di Teresa per Praga, lei emigra ma poi alla fine decide di tornare perché la sua vita senza Praga non è quella. E ci sono moltissime immagini tra cui quella del fiume che si porta via tutti i ricordi in quel. Lei a un certo punto ha questi incubi tremendi, caffiani, sogna che lui la porta a morire sulla collina di Petrin e uno di questi sogni è un libro legato al fiume. Quando vedrete adesso la biblioteca che abbiamo allestito c'è una grossa mappa di Praga e vedrete che il fiume, la Moldava, la celebre Moldava, voltava in cieco, occupa un posto importante. Ecco partiamo da lì, partiamo dal fiume. I ciechi sostengono che crei un'isola, dipende insomma, uno se la vuole vedere la vede un'isola, c'è un piccolissimo canale, comunque crea quella che i ciechi chiamano campa, un'isola. Su quell'isola si era arroccato per esempio uno dei poeti più complessi, più astrusi del Novecento cieco, Holland. Abbiamo raccolto varie poesie di Holland, Holland si è chiuso per 40 anni in questa casetta e da lì poetava sul mondo. L'immagine in Kundera è Teresa che guarda il fiume e tutta la città viene portata via dal fiume, le panchine di Praga scompaiono una dopo l'altra. Alziamo adesso gli occhi e vediamo il castello. Tutti conoscono Kafka, questo ragno che sta appollaiato sulla città, ma Holland stesso per esempio vede quell'immagine in un modo completamente diverso. Da campa osserva il Ponte Carlo e con quella capacità incredibile che hanno i poeti di rovesciare tutto, immagina il Ponte Carlo come un'enorme vasca da bagno con della gente che sta a mollo lì dentro perché lui la guarda dal basso, lui non ci sale mai sul ponte, lui si è autoesiliato diciamo su questa isola. Facciamo un'altra immagine, l'unico premio Nobel della cultura cieca è Jaroslav Seyfert, ma non è un premio Nobel dato a Seyfert che è un poeta che tutto sommato conoscono pochi, Seyfert è il cantore di Praga quindi a suo modo è un premio Nobel dato di nuovo a Praga. L'idea di Praga magica, io sono molto sempre stato perplesso ai miei studenti una delle prime cose che chiedo di dimenticare è questa idea di Praga magica, non perché non sia bella l'idea di Ripellino, Ripellino ha scritto un requiem per una grande città in cui lui non poteva più tornare dopo il 1968, dopo che aveva scritto sull'Espresso degli articoli molto coinvolti sulla primavera di Praga ed è un grande percorso nostalgico di quella città. Ma Praga è anche una città molto più normale in cui questo elemento qui magico, gli alchimisti oggi ve lo vendono, è la prima cosa che vendono quando uno va a vedere il castello, ma Praga è veramente anche molto altro. E noi abbiamo cercato un po' di seguire tutti i filoni possibili ratunando questi libri, siamo partiti dall'arte e qui ovviamente c'è tutte le monografie uscite su Muca, il grande artista della Secessione cieca, ma passando per la fotografia Koudelka per esempio. Naturalmente abbiamo dato però grande, adesso provo proprio in pillole a individuare cinque punti nodali di come può essere letta qui Praga. Praga può essere letta come una scacchiera. Un tempo fa ho fatto una lezione ai miei studenti in cui ho cercato di ritrovare quante volte compare nella letteratura cieca degli anni Sessanta il tema della scacchiera. Perché tutti si sentono come pezzi di una scacchiera? Perché gli anni Sessanta sono la liberazione dopo i duri anni dello stalinismo dove lo scrittore si era sentito un po' bloccato in movimenti e in produzioni letterarie prefissate, gli anni Sessanta è l'esplosione contraria. E quindi c'è questa ribellione contro la scacchiera, la troviamo in Kundera, in Rabal, ma il primo caso letterario che arriva nel 1960 già in Italia è uno scrittore minore, oggi completamente dimenticato, Iri Fried, che è un libro che qui abbiamo e racconta la storia di uno scacchista, di uno scacchista che entra in crisi e non riesce più a muovere un pezzo degli scacchi. È molto praghese questa immagine, evoca quella del portiere che non sa più come parare il rigore. Praga come un labirinto, un'altra grande immagine che percorre moltissime di queste, dal grande scrittore cieco, uno dei più grandi riformatori della pedagogia moderna nel 600 Comenio, era in realtà Comensky di origine cieca, ha scritto un libro bellissimo, Il paradiso del cuore e il labirinto del mondo. Ce l'abbiamo qui per i tanti casi del mondo pubblicato in Italia dalla Silvio Berlusconi, editore, è una prima immagine della città come labirinto che poi la ritroviamo in molti altri scrittori moderni. Qui abbiamo per esempio un libro pubblicato recentemente, Ivas, che si chiama L'altra Praga. Un tizio prende, come capita tante volte a Praga, uno di quei sottopassaggi che portano da un'altra parte della città e si trova in un altro mondo. Questa è un'immagine molto comune nella letteratura, nella letteratura cieca di oggi. Uno dei due scrittori che ci sarà qui, Ouregnik, l'ultimo libro suo pubblicato in italiano si chiama Caso irrisolto ed è una parodia di un poliziesco, diciamo, in cui a Praga, in una Praga un po' stravolta, un po' labirintica, avvengono tutta una serie di delitti, stupri, eccetera, che non come in un thriller del nord, alla fine vengono scoperti, ma come succede un po' sempre in questa letteratura cieca, non si capisce bene che senso hanno e il libro alla fine lascia il lettore, come dice l'autore, con l'interreglativo, qui o sono completamente scemo io o è scemo l'autore, che è un po' l'obiettivo che Ouregnik qui si riproponeva. Ovviamente l'avanguardia, abbiamo tutta una lunga serie con l'avanguardia, il maggiore teorico cieco Taighe, ma quello che vi invito a osservare è per esempio la grande tradizione della poesia visuale cieca. Naturalmente la lotta contro l'ideologia provoca la volontà di giocare con le parole e giocare con l'ideologia, noi qui abbiamo un libro pubblicato anni fa a Orvieto di quello che poi sarà il presidente della Repubblica cieca, Vaclav Havel, dopo il 1989, che si chiama Anticodici e Havel gioca proprio con i simboli delle parole, c'è un suo ritratto fortissimo, uno di questi particolarmente significativi, che dice forse io sono strano al mondo e c'è tutta la pagina piena di punti esclamativi e c'è un unico punto interrogativo che è appunto Havel, che è fuori da questo mondo in cui tutti esclamano e lui invece si interroga su determinate cose. Ma questo per arrivare a uno scrittore invece recentissimo, Smeshkal, appena pubblicato qualche anno fa, un libro che si chiama Lettera d'amore in scrittura cuneiforme, che è molto praghese come titolo, è un po' uno simbolo come l'insostenibile leggerezza dell'essere. Cioè come faccio a scrivere una lettera d'amore però a codificarla in una scrittura cuneiforme che nessuno è in grado di decodificare? Per capire perché naturalmente dovete leggere il libro, c'è tutta una storia tragica degli anni cinquanta ma una letteratura per ossimori, prendiamo l'altro, insieme a Kundera, l'altro grande scrittore cieco Bochumil Rabal, il suo libro più famoso si chiama La solitudine troppo rumorosa e di nuovo siamo in questa cultura dell'ossimoro, no? Che forse è quella che meglio di ogni altra cosa spiega un po' quell'etichetta chiamata un tempo l'ironia praghese che è quella capacità di rovesciare la realtà in modo molto drastico alle volte addirittura troppo crudo per noi, tra virgolette. Naturalmente la storia, la letteratura cieca è una grande rincorsa, scontro fisico proprio con la storia e qui ci sono tre punti proprio. Il periodo nazista, in particolare i partigiani ciechi i paracadutati da Londra uccisero il protettore Heydrich, è un episodio che poi susciterà una violentissima relazione delle SS, c'è il campo di raccolta di Theresienstadt e questo lo troviamo in moltissima letteratura. Un libro che verrà presto ripubblicato in italiano che può condensare bene tutte queste cose che io sto dicendo, uno scrittore molto famoso negli anni 60, Fuchs, pubblicò un romanzo intitolato Il bruciacadaveri. Luca parlava di cimiteri, qui siamo invece in una fornace dove si bruciano i cadaveri dei defunti. Come sapete a Praga non si interrano ma si bruciano. Soltanto che come succede spesso nella letteratura cieca Fuchs inserisce l'idea di, diciamo, questo personaggio all'inizio normale poi sempre più pazzoide nell'atmosfera degli anni 40 e diventa il principale creatore del sistema dei campi di concentramento. Attorno a questo tema qui c'è buona parte della letteratura cieca del Novecento, naturalmente la letteratura socialista, o meglio la reazione alla letteratura socialista. E qui di nuovo c'è il Kundera dello scherzo, c'è Rabbal dell'inserzione per una casa in cui non voglio più abitare altro grande titolo che racchiude un po' tutto questo schema. Naturalmente legato a questo c'è anche un altro dei grandi temi del Novecento che per noi non significa niente in Italia ma che nell'Europa centro-orientale è invece un tema centrale, cioè quello dell'espulsione dei tedeschi dopo la Seconda Guerra Mondiale. E qui a questo tema peraltro si ricollega molto la seconda scrittrice che sarà ospite qui di Mantova, Caterina Tuchkova, che ha scritto un romanzo veramente molto forte da questo punto di vista, l'espulsione di Gerta Schnich, su una ragazza che viene a un certo punto espulsa avendo una madre cieca, un padre cieco, ma senza essere parte in causa, anzi lei a dire la verità nella loro famiglia era dalla parte della madre, era molto più cieca che tedesca, ma viene comunque espulsa, viene ripetutamente violentata, cacciata e di nuovo la letteratura apre un grande tema politico che a livello politico è completamente tabù, questo delle persone normali che sono state macinate da questo corso della storia. Naturalmente l'ultimo di questi punti è poi la Primavera di Praga a cui abbiamo già accennato e qui c'è tutta la letteratura poi di quello che un tempo si chiamava il samisdat, la letteratura diciamo clandestina che lotta contro... e qui è quel momento di passaggio per dirla con due titoli significativi, gli articoli di Ripellino degli anni 60 si chiamano l'ora di Praga, è arrivato il momento di Praga, passano pochi anni, nemmeno dieci e Rot, che è uno dei principali legami degli scrittori ciechi con l'estero, pubblica invece un libretto che abbiamo molto godibile che si chiama invece l'orgia di Praga. Ecco in questo slittamento sematico tra l'ora di Praga e l'orgia di Praga vedo anche un grosso cambiamento culturale che è avvenuto tra il 68 e il 78, quando la letteratura è precipitata di nuovo in questo labirinto. Posso dire ancora una cosa? Una di numero. L'ultimissimo libro che abbiamo aggiunto a questa bibliografia è un romanzo invece che apparentemente non c'entra niente di un cieco emigrato in America che ha scritto un libro intitolato il cosmonauta, non l'astronauta ma il cosmonauta come si faceva all'est all'epoca, si chiama Kalfar e riapplica uno schema tipico di tanta letteratura cieca, quello delle passeggiate letterarie, solo che lui diventa il primo cosmonauta dell'ex est e la sua passeggiata è una passeggiata letteraria nello spazio dove incontra l'altro sotto forma di uno strano extraterrestre. Riassumendo tutto, Golem, robot, mostro nello spazio, è una letteratura che crea molto, sta molto attenta a guardare l'altro, cosa c'è nascosto dietro e è una cultura dell'ossimoro e in questo modo questo abbiamo cercato di far vedere in questa bibliografia. Grazie. Naturalmente questo evento su Praga non è stato pensato per la celebrazione del 1968 né degli altri otto che stabiliscono la storia del mondo cieco, uno amato, 1918, l'indipendenza della Repubblica ciecoslovacca dall'impero russo o austriaco o tutte e due, insomma dopo la fine della guerra e poi dopodiché 1948 l'arrivo dei russi e la fine della Repubblica che è la data che i ciechi non si vogliono mai ricordare. Però poiché invece le cabale a Praga continuano ad avere un peso, c'è poco da fare, un po' di magia, di stravaganza anche declinata sulla politica rimane, è curioso come questa roba dell'otto fosse stata colta da un signore chiamato Vittorio Mezza, amico di Federico Fellini che per mestiere faceva l'umorista che è stato il primo a portare in Italia il Teatro Nero di Praga che è un'attrazione famosa che esiste, ormai è un'istituzione turistica, non più del livello straordinario quando svobo dagli altri grandi creatori del teatro cieco venivano in Italia a rivelarci la magia di un teatro fatto di apparizioni che erano fatte dal nulla, che venivano dal nulla e tornavano dal nulla. Mezza scrive questa cosa molto curiosa, nelle fine degli anni 50, che a Praga, dove lui è stato soltanto una volta, gli sembra che i numeri siano delle divinità e che vengano adorati, perché nei numeri le persone cercano dei significati diversi da quelli che le persone quotidianamente trovano e dove fare addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni. Per cui una cosa che a me ha sempre molto interessato del mito di Praga, città che ho molto frequentato fin da bambino per ragioni comuniste della mia infanzia, è il fatto che ci sono almeno 10 immagini della città che convivono. È naturale che oggi l'alchimia ci viene venduta, hanno anche recentemente finto di trovare un laboratorio alchemico quando è crollato un pezzo di selciato per un alluvione dieci anni fa e c'è perfino un drago con cui si può aprire la porta per scendere giù e delle regnette rinnovate quotidianamente. Ma è anche vero che l'Est deve vivere, in Transilvania con Dracula ci stanno tenendo su dei bei soldi. Io non sarei così critico, la fantasia deve pure avere una propria possibilità di affermazione e per cui la questione è che mi sembra anche interessante e come naturalmente al di là del gioco sulla magia o meno, una cosa che mi sembra importantissima è la magia della scrittura che Praga sempre riconosce. Kolar, che rimane uno dei più grandi poeti visivi del Novecento, che era un poeta censurato e che quindi non poteva pubblicare le sue poesie, capì che dentro le sue poesie, ripiegando ogni riga fino a trasformarla in un segno grafico, c'era un'immagine che era libera. La parola sarebbe stata censurata dai sovietici, ma l'immagine che c'era nascosta dentro, no, questa si chiama Kabbalah. Così è. È un destino che sia nato per censura politica, che sia nato per questa cultura ebraica che malgrado le persecuzioni naziste orribili a Praga ha avuto un peso enorme, Kafka non passa per caso. E naturalmente tutto questo porta a far sì che la parola, che diventa poi qualcos'altro, è anche una linea forte dell'arte contemporanea cieca. La parola è un paesaggio, è una chiave del mondo, è una visione, è un altro elemento molto forte all'interno di questa biblioteca. Per questo gli attori della compagnia della lettura reciteranno più che leggere, naturalmente perché è al buio, al cimitero è difficile leggere, queste pagine di scrittori fondamentali di Praga in lingua cieca e in lingua tedesca, che raccontano diverse uscite dal mondo, si chiamerebbero. Non è un caso che uno scrittore come Bruce Chatwin abbia ambientato a Praga il suo ultimo libro, Uzz, che parla continuamente di porte, come diceva prima Alessandro, che si aprono verso dimensioni non meglio comprensibili. Dunque, io vado verso la conclusione e prima di ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla biblioteca di Praga e al progetto, vale la pena di leggere quello che è successo a Carel Ciappe, con uno dei più grandi autori ciechi del Novecento, a Mantua, dove è stato trattato malissimo. Povera Mantua, città natale di Virgilio e tomba di Mantegna, buco in cui mi sono diretto per guardare gli affreschi del grande Mantegna, severo e prediletto. E cosa umana e cristiana? Negarmi l'ingresso della gognata Camera degli Sposi solo perché quel giorno è una festa e non so quale nazionale e patriottica. Tu, duro custode, che hai resistito all'allettante fruscio delle mie banconote. Tu, insensibile direttore del Palazzo Ducale, che ti sei stretto nelle spalle con rincrescimento infinito e non hai ceduto il passo nemmeno alle mie minacce. Tu, tu, Mantua, sappiate che alletti scomodi, cibo troppo dolce e una popolazione vendicativa. Carel Ciappe, un grande umorista, tra l'altro, fogli italiani. Il gusto del grottesco è un'altra chiave praghese, la parola grottesca è vietato per gli studiosi perché sembra una cosa che non si può dire, però è la chiave, perché c'è l'idea di guardare la realtà e vederla come funziona secondo la sua vera natura, non secondo quello che dice l'autorità. Per cui, come vuole la regola di Girikolar, se io guardo un foglio che l'autorità sovietica mi ha impedito di pubblicare, io ci posso trovare dentro un intero mondo. Tutta la storia di Praga in brividi, parole e musica è stata realizzata con l'aiuto di Festival Letteratura, Salvatore Satta, Sara Fravezzi, la compagnia della lettura, Alessandro della Casa, Alessandro Catalano, tutti i bibliotecari che sono citati qui dentro, persone specialiste di Praga che vi racconteranno tutto quello che potete o anche non volete sapere su Praga e la sua letteratura, li trovate lì, la biblioteca si apre contestualmente a questo evento e inaugura il festival e sta aperta fino a domenica prossima. I libri si possono consultare guardando la mappa di Praga e vedere, visto che Praga è una città in cui la letteratura è molto geografica, è un'altra sua peculiarità, la letteratura è molto legata alla mappa, si possono riconoscere tanti luoghi su cui ossessivamente si è scritto, si è scritto talmente su quei luoghi fino a non riconoscerli più, che è interessante capire come ci siano alcuni luoghi troppo letterari e alcuni luoghi per niente letterari. Ed è questo anche molto curioso perché è una città che ha un mito turistico enorme ormai, tantissime persone che vanno da tutto il mondo ma che vanno sempre, come in tutte le città turistiche, a vedere cinque oggetti e molti altri restano come erano un tempo, nella fantasia, nella memoria di chi li ha visti. Il tempo è tiranno, si sa, ma è anche un sollievo che questa mezz'ora vada verso la conclusione, anche perché tanto tutto quello che dovremmo dire non riusciremo mai a dirlo perché Praga, ripeto, dal Medioevo, da Petrarca che andava a prendere soldi all'imperatore, abbiamo anche le lettere straordinarie, ai romanzacci più o meno noir che si ispirano malissimo al mito di Praga magica facendone commercio di quart'ordine e ce ne sono di uno più brutto dell'altro, ma noi senza pietà li abbiamo tutti, perché la biblioteca ha sia capolavori sia opere di commercio e di consumo, perché bisogna capire come quanto una città riesca ad arrivare dappertutto e albergare l'immaginazione fino all'estremo dell'intero universo mondo. 1800 secondi, direi che ci possiamo dare un taglio. Grazie. Catalano e Scarlini, un duo nuovo ma collaudatissimo, Praga vi aspetta nella tenda con tutti i suoi libri e io vi aspetto qui alle 18 a parlare di reliquie. A più tardi. Grazie. 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 Grazie.